Un fermo pesca che danneggia i pescatori ma anche i commercianti e i ristoratori, il Comune di San Benedetto e non solo, chiede una riforma del provvedimento consentendo che si possa pescare in mare nei mesi di luglio e agosto, cosa che adesso invece non è consentita. Ascoltiamo l'assessore alla pesca Fabio Orbinati. Noi siamo molto preoccupati, siamo preoccupati perché siamo arrivati quasi ai primi di luglio e ancora non è stata presa una decisione riguardo al fermo pesca del 2014. In questa città abbiamo anche approvato un ordine del giorno dove chiedevamo una modifica sostanziale di questo strumento che l'Europa dà ultimamente con il nuovo piano della pesca molta flessibilità sulla decisione di esso. Quindi noi abbiamo approvato un ordine del giorno dove tutte le associazioni di categorie, parliamo associazioni di categorie di albergatori, ristorazioni, indotto economico, commercianti di prodotti ittici, chiedevano di avere il prodotto nei mesi di luglio e agosto perché è inconcepibile lasciare una città che vive di turismo come la nostra senza quello che è il suo prodotto culinario d'eccellenza, ovvero i prodotti ittici che hanno una peculiarità particolare e sono molto conosciuti non solo a San Benedetto, non solo nelle Marche, ma la dimostrazione è che una delle nostre più importanti manifestazioni che promuovono il pesce azzurro andranno a rappresentare la regione Marche all'Expo di Milano. Quindi noi non accetteremo più questo modo di trattare la nostra marineria che si è messa in discussione, che ha fatto tante proposte, ma nessuno le ha prese in considerazione. Quindi noi come amministrazione comunale, io personalmente ho sempre messo la faccia su queste questioni, speriamo che il Ministero dia forma ad una riforma della pesca che non credo sia presenti dei problemi insormontabili. Questo è un governo e io credo tutti possano induire quanto io abbia fiducia di questo governo e del Premier Matteo Renzi che in tre mesi riesce a portare alla discussione una bozza di una riforma costituzionale come quella del Senato, ma non riesce a modificare il fermo pesca. Quindi spero che questa settimana, che sarà decisiva, il Ministero raccolga tutte quelle che sono state le istanze che negli anni sono arrivati dalla marineria di San Benedetto e non solo.